Salve, sono Felice Scafidi, consigliere comunale del Comune di Capodorlando. Ringrazio l'Associazione Giovani Promesse nella qualità di consigliere comunale del Comune di Capodorlando per questa opportunità che ci avete dato di far conoscere la nostra cittadina, tanti ragazzi e tante famiglie provenienti da tutte le parti d'Italia. Siamo noi a ringraziare voi, come vedete, non dovete ringraziare noi per l'accoglienza che spero sia stata di vostro gradimento e spero che si possa ripetere anche altri anni migliorando alcune cosine che magari avete trovato un po' meno perfette rispetto alle vostre aspettative. Ringrazio la persona di Giulio Iacovino con cui ho avuto modo di dialogare per l'organizzazione di questa manifestazione e spero che nei prossimi anni ci sia una collaborazione per avere qui nuovamente Giovani Promesse. Grazie.